io non lo so è che non mi hanno più offerti di fare quel genere di film lì perché se me l'ho finito io devo lasciare andare di corsa perché vedo ad esempio sui miei social l'altro giorno ho pubblicato la locandina di questo film e ho avuto 1600 1700 messaggi e tutti quanti mi chiedevano quando torni a fare il cinema lettore perché non fai iuppies numero 3 perché io rispondo beh perché c'è un'età per ogni cosa certe cose non le puoi più fare no è come se ad alberto sondi adesso per carità sono di un genio io sono un attore quello era un genio ma alberto sondi avessero chiesto di fare a vedi gara a roma a 70 anni non lo poteva più fare quindi c'è oppure il mio cagnato carlo non potrebbe più fare un sacco bello perché c'è un'età e quindi cambia cambia proprio fisicamente no e quindi anch'io non so se io e boldi ci mettessimo tutti e due a fare i yuppies i giovani di successo se ci spuntano in faccia quindi non lo so però si potrebbe trovare io anni fa ho fatto una commedia che si chiamava mesci come prima e io e massimo boldi e allora il cassotto di 8 miliardi 8 milioni e mezzo fu un grande successo è stato dopo tanti anni che non lavoravo insieme quindi dipende